Quando hai capito che il mondo della musica poteva essere il tuo futuro? Sì, questo era un stato molto importante in mia vita quando ho deciso che volevo singe, che volevo essere successo e che volevo essere famosa, perché è divertente essere famosa, credo me. E questo era il mio concetto della mia vita, questo era il mio obiettivo che volevo raggiungere. Io ho sempre lavorato così. Io ho un obiettivo, voglio fare una grammi, sono un singolo, ovviamente questo è quello che volevo raggiungere. E tutti, in ogni episodio della mia vita, ho reagito così. Ho avuto questo obiettivo, ho avuto la visione e ero per l'ora, senza alcune scuole. Innanzitutto complimenti per la domanda perché è veramente interessante. Io quando avevo sette anni già facevo paint, giocavo a fare la cantante di professione. Era una cosa che mi divertiva, sognavo di farvi un mestiere, quindi in realtà ero abbastanza piccola quando ho capito che volevo fare un mestiere. Volevo avere successo, volevo diventare famosa, perché diciamocelo, è divertente, è bello essere famosi, ma questo atteggiamento mi ha accompagnato tutta la vita, perché io avevo sempre questa forte determinazione nel perseguire gli obiettivi. sono una cantante, il mio sogno è vincere un Grammy e quindi questa determinazione c'è stata in ogni episodio, in ogni momento della mia vita. Non ci sono scuse, quando siamo in obiettivo bisogna lottare per perseguire. Io avevo visto Shirley Bessie e non ho capito che questa lingua era, o cosa questa ragazza era, o cosa questa ragazza mai era. E non lo so, ho trovato il sogno, con la compilazione della mia madre. E io stavo singing all'over e over again. E tu puoi immaginare, è stato molto cool di essere 7 anni, e singe Shirley Beth. Ma in questo momento, io ho chiesto a lei così profondamente e imitato a lei. E io credo che lei mi singe lezioni. E ogni volta che mi singe lezioni, io sono un po' affrontare che lei mi rende un po' affrontare, perché ho avuto un po' affrontare. Ma lei ha fatto un molto buon lavoro di darmi un singe lezioni senza lo sapere. Quando avevo 7 anni, il punto di riferimento era Shirley Beth. Non la conoscevo, non conoscevo la lingua, l'inglese, però c'era Goldfinger, una compilation di mia madre, e io cantavo continuamente questa canzone. In effetti non è molto cool per una, insomma, 7 anni di mettersi a cantare un pezzo di scelte passi. Però ascoltavo continuamente quel pezzo e imitavo, cercavo di imitarne la voce. Quindi, in qualche modo, scelte passi in altre direzioni di canto senza niente sapere. e io ho messo! E io ho messo la visione, e il pubblico mi apprezzo e mi chiedeci a tenere a leggere un libro sui stori. E io ho messo, ma non ho messo, ma è proprio 20 anni. Ma ho messo in me liate a leggere e ho messo, a leggere un libro sui stori. E i libri che mi ha venduto e quindi questo è quello che ho fatto in questo libro e io amo dire storie di visualizzazione ci sono delle storie e delle storie e delle storie sulle storie e quindi ho fatto in love con il libro e ho raccontato la storia in 4 giorni a mio ghostwriter e ha fatto un'ottima joba in ottenere la possibilità di vedere la tua vita in un'ottima tempo in un'ottima tempo I learned so many things about myself so that today just beyond proud and happy to have this book released in 6 languages which is just enormously great I'm very thankful for that Oh, well now we go step by step The best question I think actually I don't take myself too seriously if I'm honest it's just really something that I always wanted to do and it's so much fun it's so much fun for me to be on stage to sing out my heart to do a catwalk to do a photo shoot it's just to me really what I wanted to do so badly and I think because I can enjoy it so much because I have a true private life because without the wig and without the lashes nobody would recognize me and I can do whatever I want you know I have a normal life I do my laundry I do the dishes I go to the grocery store I take the bus the underground and just do what you know what we all have to do in our everyday life and on the other side I get the glamour and the glitz and the spirit in the world and this is just truly fun to me and well that's when it comes to being famous should I stop? no it's true ok um this lady is incredible I could never I tried to you know catch up and rehearse my Italian which is non-existing and when it comes to the expo I didn't know that he is here well he is my friend Mr. Putin I would love to meet him actually and I said that several times I think I really I really would love to understand what it actually means to be Vladimir Putin I would love to to understand what does it mean to be Barack Obama or the Pope you know I would love to meet those people because I think you can learn so much and to just understand why while in this specific case Mr. Putin made decisions that I'm not very happy with I just wanted to to get the point why that came all about because I think once I could understand it I could say like well but you're wrong you know so it's on the one hand I'm very nosy I just want to know what's going on and I would love to talk to him because I think it should change his life thank you well thank you for your question so what was the first one? I was sorry that you were ahead now but wait oh the two thank you oh here we go we're planning on well I'm actually allowed to promote my album and my book all around the world which is a huge honor but it's not a tour in a traditional way so you know because I'm basically not Madonna so thousands of people would show up but I am allowed to sing in all these places that I'm allowed to visit and we're going to Japan and back to Australia and to the United States so and there will be little concerts but not like you know the concert tour but one day I will and then when it comes to the book and especially reliving my whole life I I I turned to my ghostwriter and I said well you should actually get money because you you're writing a book and on the other hand because you're doing kind of therapy but he said but I'm just listening to you and I said well you're right you they gave me an advice anyhow it was a beautiful process that I as I said before I learnt so many things about myself that I didn't know or I didn't believe that I had in such an early state because for example I've always been very self-confident although in those days where I thought that I wasn't but when it comes to a point where there is something going on like being not respectful with one and each other I always stood up and said well that's not going to happen apologize or whatever so in specific moments I always have like this self connection to myself where I'm brave enough to speak up so that was a beautiful thing for me to realize and when it comes to the United Nations I met Ban Ki-moon last year and that was just incredible I was allowed to give a little speech and I would love to do it again because in first place it really gave me so much especially getting the request by Mr. Ban Ki-moon that he wants to see me I thought first of all it must be a mistake because I think he's looking for another bearded lady because it's just me and we had this talk and I thought I was just so thankful there are actually people out there who have so much influence in our society who believe in kind of the same things I do and that's just such a beautiful feeling that it's that it could go in a way where we can live in a respectful way together so I would love to meet him again and I would love to talk in any of these very powerful places and with these influential people because as I said before on the one hand I really want to grow myself and on the other hand I try to give what I think is right to our society